Se sei in cerca di un'avventura, preparati a scoprire più di quanto tu abbia mai immaginato. Immagina un mondo magico e l'unico e mezzo per raggiungerlo è questa corda incantata. Seguimi, salta con me! C'è solo una regola da seguire. Chiudi gli occhi e apri la mente. E' il nostro regno. Si chiamerà Terabitia. Questo non è un posto come gli altri. Un regno dove tutto sembra possibile. Erano padroni del mondo e nessuno poteva distruggerli. Terabitia era il loro segreto. Un ponte che a qualcuno incapace di vedere sarebbe potuto apparire come un mucchio di assi.